Torniamo a parlare della giornata della memoria e lo facciamo riproponendovi le accorate parole pronunciate due anni fa dal compianto Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, parole che mantengono intatto il loro valore e attualità. Ad Auschwitz è l'essenza stessa dell'umanità ad essere stata messa in dubbio dalla volontà di sterminare il popolo ebraico e con esso il popolo rome, sinti, gli oppositori. Ad Auschwitz si è incarnata la negazione stessa della nostra civiltà. Il nazismo e il razzismo non sono opinioni, ma sono crimini. In definitiva dobbiamo accogliere l'ingiunzione della Bibbia, che troviamo espressa in modo esplicito, ma molto semplice. Nel libro del Levitico non coopererai alla morte del tuo prossimo. Questo presupposto deve guidare le nostre azioni.